In data 11 giugno 2021, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, Vescovo della Diocesi Lucera Troia, ha nominato Don Ivan Clemente, parroco a Carlantino, Don Stefano Mercurio Tronco, parroco a Rosetto Balfortore, Don Giovanni Di Domenico, amministratore parrocchiale a Celenza Balfortore, con la collaborazione del diacono Nicola Cocumazzo, Don Pasquale Caso, nuovo amministratore parrocchiale ad Alberona, con la collaborazione del lettore Davide Pupillo, Don Urbano Curci, cappellano del monastero delle Clarisse a Bari e vicario parrocchiale a San Pio X in Lucera. L'economo diocesano, il diacono permanente Nicola Cocumazzo, è stato nominato responsabile in Celenza del Santuario Santa Maria delle Grazie e strutture annesse. I ministri inizieranno il loro servizio il 1 luglio 2021.